di una via ufficiosa, una via ufficiale, di un bigliettino anonimo o del buon Fiori che si ricorda, e questo è una cosa incredibile, eppure anche se abbiamo dei verbali a riguardo, di questo Fiori che se lo ricorda nel 1982. Io fossi stato un amico di Fiori e gli avrei fatto, scusami Fiori, ma te esattamente gli anni prima dove sei stato? Cioè te lo ricordi adesso di un altro delitto commesso nel 1968? Probabilmente Fiori se lo ricorda proprio in quel momento, ci sta, e arriviamo al 1968. E qui mi colpisce davvero tanto l'inizio di tutta questa storia del mostro, che ormai sono passati più di 50 anni, che inizia con una scena molto cinematografica che è il campanello nel cuore della notte. È il campanello nel cuore della notte, il bambino che racconta quella storiella forse un po' troppo forzata del apri mi che ho freddo e ho sonno, il babbo, la mamma e lo zio sono morti in macchina e il babbo è a casa ammalato. Una storia veramente molto articolata per un bambino di sei anni che ha appena visto la madre e questo zio morti in macchina. Però il bambino in un estremo, oltretutto, gesto di lucidità, riesce a riaccompagnare il De Felice e il piantone della caserma in cui Felice si era rivolto dicendo c'è un bambino che dice la mamma e lo zio sono morti, arrivano in via del Vingone e trovano Barbara Locci e Antonio Lobianco, che sono all'interno di quella Giulietta che avete sentito citare nel bellissimo monologo letto già al Giacomo all'inizio. E qui si apre la pista sarda, che morirà formalmente nel 1989, ma vediamo anche ora da recentissime uscite di qualche giorno fa praticamente, non è mai finita, che sono Barbara Locci e Antonio Lobianco. Barbara Locci e Antonio Lobianco sono le prime vittime del mostro di Firenze o comunque le prime vittime attribuite al mostro di Firenze, quantomeno a livello cronologico. Sono due amanti ed è un unicum del suo caso, hanno entrambi 30 anni, sono sposati ed hanno figli con partner diverse che questa sera, in una delle tante uscite serali della Barbara Locci con altri amanti, perché diciamo è una ragazza molto dedita alla vita sessuale con altri, oltre a quella del marito, anche se non crede che quella del marito fosse così spasmodica. Esce una sera con un amante, che è Antonio Lobianco, che ha vinto una sfida oltretutto, vado a ricordare perché era stata sfidata a dire prova a uscirci te e lui dice, beh, esco veramente. Escono, vanno al cinema a vedere un carinissimo film giapponese, Nuda per un pugno di eroi, che già questo veramente, se pensate poi alla storia come nasce, loro si è andata a vedere Nuda per un pugno di eroi e nasce poi la storia del mostro di Firenze, è una coincidenza davvero che il miglior sceneggiatore avrebbe avuto difficoltà a scrivere. Barbara Locci viene colpita insieme all'amante in macchina, mentre il figlio, il piccolo Natalino, dorme dietro nel sedile. E qui il mostro effettivamente è uno sparatore degno di nota, perché i primi colpi riversati verso l'uomo hanno indici molto paralleli tra loro, nel senso gli ha colpiti di sorpresa, non si è provato neanche a muovere lui. Gli ha sparato i colpi, lo lupiscono tutti al fianco sinistro, tanti passano l'avambraccio e poi arrivano all'emitorace sinistro, mentre la donna viene colpita alla schiena. D'accordo? In questa zona sinistra. Ora, una parte, come viene evidenziato in un blog che da un articolo che vi consiglio di leggere si chiama Quanti colpi sparati assegna, evidentemente fa notare l'autore che probabilmente il braccio del lo bianco era appoggiato alla schiena della locci. La locci viene colpita leggermente di schiena, protratta verso lo bianco che viene trovata in quella posizione. Ora, siamo tutti persone, diciamo, vedo maggiorenni, non credo che si abbia difficoltà a individuare quello che più o meno stava succedendo durante la scena. Ora, c'è chi pensa, chi crede, proprio a me, secondo me questo è tutto dovuto ad un errore di redazione del verbale che la locci fosse sopra al lo bianco. Cioè, che voi immaginate lo bianco così e la locci sopra. Ora, io la vedo difficile per il tramite dei colpi che sono dall'alto verso il basso questa, diciamo, situazione. Anche perché imporrebbe in tal senso un movimento dei corpi che non coincide con il tramite di questi e la direzione, quasi se questi effettivamente fossero stati effettivamente colti di sorpresa. Tant'è che lui viene colpito per la prima volta qui e poi probabilmente lei si rigira, continuano gli spari e lei rimane con la schiena rivolta verso lo sparatore. Ma dietro c'è il bambino. Ora, anche qui è il primo diritto del mostro di Firenze, quattro colpi ciascuno, quattro, forse tre colpi ciascuno, a seconda di quanti se non si vengono sparati, ed è il primo diritto senza escissioni. Che fa il mostro? Io sento dire, tante volte, che questa è l'escalation del mostro. Cioè, colpisce per la prima volta senza commettere escissioni. Poi nel 74, quando è un pochino più grandicello, fa quel, diciamo, quel troiaio con l'arma da fuoco, costretto ad utilizzare il coltello per uccidere. Attua quella, diciamo, composizione sul corpo della ragazza. Da lì poi si riferma nell'81 è più bravo e comincia a scendere fino ad arrivare poi al seno. Ora, la cosa che mi stride rispetto a questa costruzione è proprio l'abilità di sparatore. Noi pensiamo che, volendo pensare che, e sapete che c'è una lunga diatriba in merito, che quella veramente non voglio affrontare circa chi ha sparato nel 68 è lo stesso che ha sparato negli anni successivi, se no veramente famonotte. Pensando che sia il solito, nel 68 l'unica certezza è che è 6 anni più giovane rispetto al suo io del 1974. Quello del 1974 è 7 anni più giovane rispetto al suo io del 1981. Vuole che quello del 1968 è 13 anni più giovane rispetto al suo io del 1981. Bene. Fa una cosa qui l'assassino che non rifà più. Apre lo sportello. Apre lo sportello per sparare. E questa, a livello criminologico, io l'ho trovata una cosa molto interessante e utile ad un'eventuale profilazione criminale. Perché? Perché non antepongo barriere tra me e chi uccido. Lo sportello, il finestrino, l'usare un escamotage di sorta, chi vuole la divisa, chi vuole puntare una luce o altro, è qualcosa che mi protegge. D'accordo? È qualcosa che crea una distanza tra me e le vittime. Nel 68, paradossalmente, sono 13 anni più giovane rispetto all'81 o anche al 74 che sparo, non vorrei dire alla rinfusa, ma quasi perché impiego 11 colpi a uccidere una coppia ben più giovane rispetto a questa, quindi di ragazzini, tra un ragazzino di 18 anni e un uomo di 30 anni, ahimè, si vedano le differenze, d'accordo? E a me che sono comunque più giovane, ammazzando quindi vittime probabilmente più vecchie, anzi sicuramente più vecchie di quelle che ho ammazzato dopo, riesco a aprire lo sportello, sparare colpi in modo freddo, glaciale, algido, nei confronti di due soggetti di più, con a bordo un bambino in macchina e c'è chi dice il bambino non l'ha visto. Allora, vedendo la scena del delitto, vedendo le foto della macchina e vedendo anche questo disegno, secondo me è impossibile che il soggetto non abbia visto il bambino. Anche perché, e questo è preciso eh, questo è il studio dove sta il bambino. In un verbale viene scritto che il bambino dormiva con i piedi verso lo bianco, in un altro, ma probabilmente il verbale del 68 purtroppo non sono la più grande fonte di informazione perché sono scritti, sembrano scritti veramente da uno schizofrenico, perché una volta scrive uno, poi un altro, c'è un sacco di particolari diversi, altri invece lo vedano al contrario, con la testa rivoltala. Ora, è veramente difficile pensare che in una Giulietta così piccola io riesca a sparare, oltretutto verso dei soggetti che se continui il tramite, tant'è che il boss lo viene ritrovato anche nel sedile dietro, io non riesco a vedere il bambino. Anche perché non credo si possa pensare ad un soggetto modalità testa di cuoio che arriva, prende e comincia a sparacchiare alla macchina correndo verso gli assalitori. Ed un soggetto che probabilmente si avvicina piano, oltretutto in un pericoloso gaiccio che circoscrive la macchina, quindi facendo un minimo di rumore, e non vede il bambino, parentesi, e questa è una cosa, è una suggestione, non vorrei veramente pensare, anzi, se fosse un sardista convinto, io penserei a una cosa del genere, sapendo poi quali sono stati gli excursus della storia, c'è lo Stefano Mele, non sono stato io, è poi stato Francesco, è poi stato Salvatore, poi si era tutti insieme, ma poi ci sono stato io, la galera e quant'altro, il fogliettino, la storia sarda, sapete tutti come va a finire. Mi dico che Natalino Mele è la fortuna dei vinci. Natalino Mele è la fortuna dei vinci. Senza Natalino Mele sulla macchina che racconta la storia, loro sono spacciati. Voi pensate a questa scena senza Natalino Mele. Cosa fanno? Trovano i corpi di una umana donna. Prima cosa, vedono che sono amanti, vanno dai rispettivi compagni. La moglie dello bianco, una buona donna, gli racconta la sua storia triste. Vanno dal Mele, che comunque sappiamo non è un fulmine di guerra. Vanno dal Mele e gli dicono, guardi signor Mele, mi sa che non è la sua giornata perché hanno ammazzato appena sua moglie, così. Il Mele probabilmente colta, come ogni buon poliziotto, ammazzano la moglie con l'amante, chi è il primo sospettato? Il marito. D'accordo? Ancora, parlano col marito e il marito alza la mano e dice, guardi veramente non ero, ho la vaga impressione di non essere l'unione, andavo a letto con mia moglie e magari ce n'era altri due o tre. D'accordo? Vanno da questi altri due o tre e scoprono che, tanto si può dire dei fratelli Vinci, ma che fossero degli stinchi di santo. Proprio non ci sono. E non lo sono. E quindi, probabilmente, le indagini avrebbero ben scavato lungo di loro. La fortuna dei Vinci è una fortuna davvero incredibile. È che c'è un bambino che racconta una storia così costruita sinceramente, che a poche ore di distanza dalla morte della madre, un bambino nel sonno riesce a raccontare questa storia così condita di particolari. Che ha tanto sonno, anche se è probabilmente addormito tutta la sera, che ha freddo, è vero, che la mamma e lo zio sono morti in macchina, fammi entrare e il babbo è a casa ammalato. Tanti particolari per un bambino che, dai verbali e questa ringraziamoli per una volta, non risulta affatto spaventato, affranto, triste, dimostra una preoccupante tranquillità. Anzi, come racconta la moglie del De Felice, è preoccupato soltanto in altre circostanze. Quando? Quando sente le sirene della polizia. Tant'è che per tranquillizzarlo gli dicono, no, no, è mio cugino, è un parente, no, no, non è un poliziotto. Una storia raccontata talmente male che a me, pensando a questo caso, come potete vedere, ci penso spesso, ho pensato, ma non è che a questo ragazzetto, a questo bambino, gli è stata raccontata questa storia talmente odorante di fase, tant'è che dopo 50 anni siamo qui a dire, ma questa storia è vera e l'è stato imbeccato o meno che una congrega di persone per far fuori la loccia, o magari uno di questi, e avere una connivenza del marito dicendogli, guarda, forse la facciamo fuori, stiamo meglio tutti, tutti, ma sai cosa? Noi ci mettiamo, la colpiamo quando lei una sera va fuori con il bambino, infatti di mercoledì non c'è neanche qui una volta un venerdì, sabato, domenica o altro. La colpiamo quando è col bambino? Il bambino poi gli facciamo raccontare questa storia, tanto Stefano a te, ti scagiona, dice che eri a casa malato, lo dice un bambino e lui fa, effettivamente mi sembra un grandissimo piano, giusto che appunto non era questo gran questo gran lume. Ovviamente non sa il paro Stefano di essere un merdo, anche perché sapete tutti cosa fa Stefano appena la polizia quella mattina del 22, ormai agosto 1968, suona al piano sbagliato, si dice, ah cercate me, e poi scende. Non, oddio, c'è la polizia fino a tardi, cosa succede? O quantomeno sono le 5 e mezzo, 6 del mattino quando vanno la prima volta da lui, la sua moglie non torna col bambino, qualcosa è successo, un minimo d'allarmismo o altro, poi c'è quelle mani particolarmente sporche in quella mattina che un po' sinceramente puzzano, ben che non credo fossero campioni di igiene e polizia personale. In ogni caso nasce il mostro e inizia l'epopea sarda. Scusate, devo fare un'altra parentesi perché l'ho lasciata prima, ho un po' di difficoltà perché sto cercando di togliere molto per rientrare nelle due ore. Un mostro che appunto decide come su escalation di, prima colpire in modo freddo una coppia grande con un bambino in macchina, per poi nel 74 dimostrarsi uno scarsissimo sparatore, commettere quella trattata sui diritti e poi sei anni dopo cominciare a sparare alle macchine da dietro il vetro. C'è qualcosa che a me, a livello di escalation, veramente torna poco. Torna davvero poco. È innegabile però che questi delitti sono collegati, sia per una questione balistica, di pistola, di proiettili, sia per una questione di circostanza, due amanti in macchina. Come si evolve la storia? Troviamo altri indizi utili alla nostra profilazione. 9 settembre 1983. I due turisti tedeschi uccisi all'interno del pulmino. Anche qui colpi di calibro 22 sparati nei confronti di due turisti tedeschi che erano venuti a fare una mena agita per le colline toscane che vengono uccisi all'interno del loro pulmino Volkswagen che appunto, per cui dormirci dentro, avevano messo delle materassi nel retro, che è questo che vi ho disegnato, per dormirci. Anche qui la grande problematica riguardo al delitto del 1983. Il mostro si è sbagliato perché il mostro ha ucciso due uomini. Credeva che uno di questi fosse una donna perché aveva la capigliatura bionda. A me questa è una cosa che fa molto sorridere. Ha fatto davvero sempre molto sorridere. Perché? Abbiamo già visto che il 68, a quanto solitamente si dice, scusate il 68, l'82 non gli è andato benissimo. La macchina, bloccata, non riesce a fare quanto male le sue eccessioni che voleva così tanto. Nell'83 dice, mi rifaccio dell'82 che non è stato il mio anno. Nell'83 vado, eppure avendo una situazione molto più facile da controllare, due ragazzi lì con i suoi finestrini, più carrozzerie intorno, lui spara, a quanto pare alla cieca, e uccide due ragazzi. Poi apre e fa, ma no, ma erano due uomini, ho sbagliato. Cosa ho sbagliato? Chi sono le vittime del mostro di Firenze? E ancora, cerchiamo le costanti sempre. Sono un uomo e una donna che sono in macchina in atteggiamenti amorosi? Sì. O sempre? Pensate all'82. L'82 sono completamente vestiti. Avevano appena finito? C'è quel preservativo legato sotto, anche se poi non sono ormai riusciti a periziarlo. Comunque dicevano effettivamente sì, fosse un liquido da non tanto tempo, però si sa che era anche una coppia molto viva, d'accordo sul piano sessuale, che non sappiamo fosse magari della sera prima, della giornata, era tutto il sabato comunque, anche il sabato comunque era un giorno in cui potevano vedersi. No, non è questo il minimo comune multiplo riguardo tutti questi delitti, è un altro, sono due persone appartate. E questa è la costante di tutti i delitti del mostro. E c'è sempre. Due persone appartate, in un luogo probabilmente in cui non potevano farlo. E questa è la condizione che c'è sempre. E non trova niente di diverso rispetto a questa volta. Sia che questi fossero omosessuali o meno. Ora, c'è chi dice che questi ragazzi effettivamente fossero omosessuali, perché uno di questi, Lorz, effettivamente era stato attenzionato dalla polizia tedesca per aver frequentato alcuni locali, diciamo, di ritrovo di omosessuali. Se io fossi la fidanzata di uno di questi ragazzi e loro, invece di portarmi in vacanza, hanno fatto, ma andiamo in vacanza se siete stati, no, vado col mio amico per le colline toscane. Ah, che bello. Ha fatto, ma dovete, no, no, dormiamo, abbiamo un materasso, dormiamo insieme. Ah, che bene, potevamo andarci insieme, però sono contento che ci vado con lui. E vengono ritrovati comunque in questa avvicinanza, quasi divisi, perché sono allontanati all'interno del pulmino, e dico, beh, che forse, magari qualche atteggiamentino omosessuale ci poteva stare. Però, indipendentemente dal fatto che questi fossero o non fossero omosessuali, per chi guarda in quel momento, sono comunque due corpi abbastanza nuovi, l'uno accanto all'altro. Quello che stessero facendo purtroppo non ci è dato saperlo. Anche se il tramite dei colpi, qualche informazione al riguardo, ce la dà. Ed ancora, non sono il chirurgo del terrore? Non sono l'assassino del bisturi? Non sono colui che compie i delitti per i fetici? Anche quindi va male. Anzi, questa volta col coltello neanche il tocco, non eseguo neanche le coltellate post-morte agli uomini. Perché? Eppure, a mente restava proprio quelli, e sono stato talmente sciocco da sbagliare per due anni di fila. La prima volta cerco una macchina dove so sicuramente che non potrò eseguire le scissioni. Nell'altra, ammazzo una coppia di uomini che oltretutto è grossamente una cosa che io, escendo vagine, scusate pubi, escendo seni sinistri, e a questi qui mancano i seni. Probabilmente per colpirli come accade, anche al volto, come a lui, probabilmente io devo mirare per farlo. Devo mirare. E nel mirare non vedo che, innanzitutto, sì, c'era un principio di barbetta, però nelle foto dell'autopsia ce n'era veramente poca. Però, diciamo che più che la barbetta, più che il capello lungo, e poi tanto lungo non era, ti può veramente portare all'evidenza dal fatto che questo ragazzo non abbia il seno. Ma c'era luce? Eh? C'era luce. Ma secondo alcuni stavano leggendo. Ma secondo alcuni stavano leggendo, c'era luce. Sì, probabilmente proprio per leggere ti ci vuole una lucina qualcosa. Ah, no, 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 ok, no, credevo che fosse un no, non c'era luce. No, no, non c'era luce. Secondo me, una luce che illuminava all'interno c'era. E in ogni caso, credo davvero che il corpo del Rush, oltretutto affetto da una lieve gobba, non sembrasse affatto il corpo di una donna. Se davvero, la mia intenzione è quella di colpire l'uomo e donna che svolgono un'attività sessuale l'uno con l'altra. Perché, come nel 68, non voglio pensare che il mio assassino mostro di Firenze sia prendo e sparo. Ma deve essere probabilmente un soggetto che si ferma a guardare ciò che accade all'interno della macchina. Ciò che accade all'interno della vettura. Spara e dico, vabbè, io credevo che il Rush fosse una donna. È un problema? Si corregge? No. Per questo credere non sia un problema. Perché questo è un assassino che ha sempre corretto i suoi sbagli. Voi pensate alle chiavi della macchina? Correggere nel senso di ovviare a delle problematiche. Questo intendo per correggere. Ad esempio, voi pensate anche tra il 74 e l'81, d'accordo? Lì cambia perché probabilmente cerca una modalità di aggressione più sicura per lui. Cioè, impararsi, come crede alcuno, dietro una divisa? O quantomeno arrivare e puntare una luce forte verso chi lo guarda? anche perché nell'81, nei due casi dell'81, le vittime vengono palesemente colte di sorpresa. D'accordo? Non c'è una reazione da parte loro tranne, purtroppo, per la ragazza. D'accordo? Tenta di modificare. Voi pensate anche alle chiavi buttate via e il furgoncino e anche l'84. Secondo me, proprio perché è un assassino organizzato, ok? Come si usa dal Crime Classification Manual, d'accordo? Che li classifica così. Tenta di modificare il suo modus operandi per arrivare al risultato. Se davvero il suo interesse fosse quello di uccidere una coppia durante, una volta l'anno, per escindere parte del loro corpo, secondo me dopo il 9 settembre, probabilmente, avrebbe ricorretto il suo tiro. Come lo corregge nell'81? Ricolpendo nell'ottobre. Credo che in ogni caso non siano condizioni che fuoriescono dal suo disegno micidiario. Cioè, non vedo che comunque rappresentino l'82, l'83, un errore macroscopio a dire, da, ho sbagliato, devo rimediare, devo farne un altro. È qualcosa che comunque presenta le stesse identiche caratteristiche degli altri delitti. Cioè, l'uccisione di due persone all'interno di un luogo, o una macchina, o una tenda, come vedremo, comunque in un luogo aperto al pubblico, in atteggiamenti che, ovviamente, lui riteneva non consoni. Cioè, atteggiamenti sessuali o semplicemente un amore che in quel momento non poteva esserci, tant'è che io lo nego, li ammazzo. Non credo che ci sia, che l'obiettivo suo sia la donna, perché credo che, come ci sono stati, e lo sappiamo all'epoca, di donne uccise da sole ce ne sono tante. Anche perché, a me questa rivista Golden Gay, insomma, che proprio lì ci fosse, quella rivista, tagliuzzata barra stralciata, ce l'avevano questi ragazzi e se l'erano comprata lì per lì, o l'ha portata l'assassino, o l'ha trovata lì, visto che comunque era una piazzola abbastanza evita, comunque, ecco, che ci sia due uomini uccisi in mutande all'interno di un van, dei quali uno di questi, attenzionato dalla polizia tedesca per atteggiamenti omosessuali, con una rivista stralciata, non usurata da agenti atmosferici, poco lì accanto, ecco, è una serie di coincidenze che, messe insieme, mi fanno dire, forse l'assassino andava proprio bene così. Passa ancora un anno, fine estate, 29 luglio 1984, sicuramente uno dei delitti più sentiti anche dall'opinione pubblica, anzi, forse il più sentito, sia per quello che è stata la storia di Renzo Rontini dopo, sia anche per l'innocenza mostrata da un viso eccessivamente giovane, purtroppo, per la fine che ha fatto, della ragazza, cioè di Pia. Anche qui l'assassino colpisce, utilizza ovviamente l'arma da fuoco, colpisce in modo abbastanza preciso, i due ragazzi che erano in macchina, avevano tolto anche il divanetto dietro per poter, diciamo, aumentare la zona da utilizzare, colpisce Pia quasi subito, che muore quasi subito, comunque, anzi, entra in uno stato, purtroppo, che le farà presentare indici di vitalità nelle ferite che hanno portato poi alle cisterci, e spara poi anche il ragazzo, riversando su di lui una volontà, diciamo, di overkilling, comunque, di infrangere il suo corpo con tante pugnalate dopo la morte che gli anni prima non aveva dimostrato. Claudio, infatti, viene ritrovato nel retro della sua panda, in posizione fetale, vistosamente ricoperto di sangue, tant'è che ne ha gli indomenti tutti intrisi, forché un po' i calzini, perché è stato colpito da circa 10-11 coltellate lungo il corpo, subito dopo la morte avvenuta con l'utilizzo dell'arma da sparo. Per la prima volta, l'omicida presenterà una sorta di interesse per la zona inguinale del ragazzo, tant'è che verranno trovate tre colpi di arma bianca, guardate se faccio segni, uno qua, uno qua e uno qua. Pia, come tristemente sappiamo, viene trascinata fuori dalla macchina, nel sottostante, e per la prima volta, Pia, che stringerà ancora nelle mani alcuni indumenti, avrà l'escissione sia del pube che per la prima volta del seno sinistro. È un qualcosa che l'omicida non aveva mai fatto. Si era sempre limitato alla zona pubica. Ed era a due anni, come giustamente facevano notare dalle prime file, che comunque non gli era andato tanto bene, e probabilmente era stizzito, era arrabbiato per questa cosa. Trova la coppia di giovani, molto giovani, giovanissimi, 18-19 anni, e quindi probabilmente decide di accanirsi con quella furia ripressa nel corso di due anni. Così, sinceramente, non lo credo. Perché? C'è furia in questo delitto, tantissima. C'è una furia che ricorda sempre un altro delitto, che è quello avvenuto dieci anni prima, che è quello del 1974. Si è sempre parlato di escalation omicidiaria. Come abbiamo detto prima, 68, gli ammazzo e basta, 74, colpi di pistola alla rinfusa, e poi corpi. 81, pube, 81, pube, 82, 83, sbaglio, mi arrabbio, 83, sbaglio un'altra volta e ripento gli uomini, 84, oh, mi ritrovo il corpo di una ragazza. E quindi questa volta aumento il mio disegno e pratico l'escissione del seno ma. Per evolvere il mio agire, io devo necessariamente, e questa è una questione di pratica quotidiana, non c'è bisogno di essere degli assassini, devo avere la stessa azione che mi porta ad una reazione. Qual è l'azione che io sbaglio, assassino? È uccidere. L'abbiamo visto, purtroppo. Qual è l'input che dà la mia reazione? La coppia in macchina. Queste coppie in macchina, ad ora, siamo al 1984, come le abbiamo trovate? E chiedo a voi. Come le abbiamo trovate? Come erano? Come le troviamo? Vestite. Quindi, siamo tutti grandi e vaccinati, sappiamo bene che più sono nude probabilmente, più la reazione sessuale è a un punto accelerato rispetto a che quando sono pienamente vestito. Nel 1984 come li trovo? Nuda. E lui, mutande e calzini. Nell'81 come li trovo? Vestiti. Nell'altro 81 come li trovo? Abbastanza vestiti. Nell'82 come sono? Vestiti. Nell'83 è una situazione a sé. I mutande. Doviamo in mutande. Nell'84, che era l'altra situazione prima di vista che vi ho detto uguale a quella del 1984? Il 74. Non c'è un'escalation. C'è una reazione. Che giustamente, qui, è più matura. Perché? Perché sono passati dieci anni, non dieci anni dove io sono stato a farmi una villeggiatura, ma sono stati dieci anni dove, negli anni precedenti, qualcuno per altre quattro volte colpì. Qui sono diventato un assassino migliore, e mi dispiace dargli questo aggettivo, un assassino più esperto, più metodico, e probabilmente anche la mia fantasia, ha raggiunto un disegno tale da mi ritrovo dieci anni dopo la stessa situazione, tant'è che anche qui, come Stefania, avrà le mutandine strappate, questa volta tagliate, che le rimarranno sotto, e attuo quello che dieci anni prima, probabilmente la prima volta, perché anche se sono stato sempre io, nel 68 non ho mai visto un corpo nudo di donna, o quantomeno non ho avuto tempo di fermarmici un attimo con lei, attuo quello che nel 74 si è diventato in tante coltellate, e il tralcio all'interno della vagina. Tra il ciò che, non abbiamo parlato nel 74, ma mi tornava molto più utile parlare adesso, è sempre stato visto come una sorta di trasposizione del gesto sessuale, tant'è che è stato ipotizzato da esperti che ci troviamo di fronte ad un soggetto impotente, d'accordo? Un soggetto impotente che quindi trasmuta il ramo nel fallo, che lui probabilmente non riesce a utilizzare, tanto da inserirlo all'interno della vagina, proiettando quell'atto sessuale che lui non riesce a compiere. Ecco, a ben vedere però, hanno ipotizzato, come si vede anche nella perizia di Fazio, che difficilmente un soggetto per ovviare a tale problematica di impotente, un ramo scello. E quello, come si vede nel disegno, è proprio un ramo scello. Anzi, come la casistica insegna, soprattutto quella statunitense, che sono molto bravi a classificare, tali trasposizioni di impotenza, o comunque di mimare l'atto sessuale, vengono attuati o con oggetti sfortunatamente molto più grossi o rassomiglianti a un fallo, o comunque con una vera e propria simulazione dell'atto. Cioè, un andare dentro, fuori, dentro, fuori. Il ramo scello, in questo caso, è una scena molto bucolica, tant'è che alcuni ha ricordato, come ricorderà per altri, l'81, circa la collanina messa tra le labbra della ragazza, una ritardistica di un'arte rinascimentale che voleva la donna immersa nella natura. Perché? Perché era comunque una donna che comunque la natura, come prima espressione di Dio, è un collegamento tra quello che poi il professor Rosa Paggiù non mi vorrà, che è una sorta di... chiamiamola donna Angelo, ecco, proprio dando piano piano, ecco, d'accordo? E lo dirà quello, non c'è una offesa al corpo, meglio, questo è quello per cui io, mi dispiace non potervi far vedere la foto della ragazza. Davvero, ma non c'è di pregiativo all'interno o di offensivo sessualmente all'interno di un ramo scello? Perché, ho parlato anche con il professor Marello, che quel ramo scello l'ha visto, l'ha tolto, non era tanto infilato, non era ben inserito all'interno della vagina, era inserito quel tanto che bastava per farlo rimanere lì. E crea una scena che, secondo me, non ricorda un'offesa, ricorda, secondo me, più un atteggiamento votivo nei confronti della scena. L'assassino, abbiamo visto, gioca molto con la scena del delitto. Sposta i corpi, apre le gambe, le braccia, li offende, li finisce di denudare. Perché cosa sa questo assassino? È un assassino che nasconde i corpi, ad ora, per quanto ne sappiamo, nell'84, no? Li nasconde? Li rimette da qualche parte? Compie quelle attività di staging sui cadaveri? Cioè, di spostamento, o quantomeno, non gli chiude neanche gli occhi. Tante volte accade, quando si ha pietà per le vittime, gli assassini chiudono gli occhi. D'accordo? O comunque li nascondono perché, perché hanno, diciamo, qualche remora nei loro confronti per dire quando verranno trovati in questo modo. Anzi, il mostro più è appariscente, meglio è. Perché probabilmente, sa che ciò che lui fa viene raccontato, viene raccontato tanto. Lui probabilmente vive la sua quotidianità con il nome sui giornali. che raccontano il loro gesto. Quelle persone che cominciano a scrivere libri e farci film, con persone che, probabilmente, sente per strada, quando è al ristorante, a mangiare, o quando passeggia per strada, e vede i ragazzi parlare, sente ciò che ha fatto, ci sente, oh, ma quelli lì a cui poi ha strappato la vagina, il seno, li racconta. È una persona che sa che probabilmente che più offende, più se ne parla. E lo fa, probabilmente, perché vive di questa cosa. Lui ha bisogno del racconto, ha bisogno che se ne parli, ha bisogno che probabilmente si instauri, perché cosa sta accadendo in quel momento? L'avete già detto prima. Stanno iniziando a non far scire più i ragazzi di casa. Stanno iniziando a riportare una sessualità prima fin troppo manifesta all'interno delle mura domestiche, stanno ricambiando le abitudini. i genitori iniziano a rilasciarti a casa libera. Come si disse la prima lezione riportando i racconti dei nostri genitori. Andiamo al ristorante stasera, andiamo a cena fuori. Il mio nonno diceva che il mostro gli è costato un mutuo per lasciare, avendo tre figli, per lasciargli la casa libera. Andiamo a cena fuori, guarda, andiamo a questo ristorante qua, torniamo ad una certa, anzi quasi quasi vi chiamiamo prima del ristorante. O comunque il nonno diceva il babbo di mia mamma. guarda, tu ti lascio a casa libera, queste sono le chiavi di casa al mare, fuori no. Loro stavano a bagnare gli ipoli, anzi, forsemente zona non colpita, secondo alcuni anche per un perché, mi riferisco al professor Bruno. Però, in piena che lì, vabbè, del sesso anche, quindi erano proprio diciamo una vittimologia molto alta, si iniziava a creare questo. E secondo me è un qualcosa che il mostro ricerca. Il mostro vive di questa, di questo trasmettere un messaggio per riportare quella sessualità all'interno delle case. Lo fa uccidendo, lo fa lasciando un messaggio molto esplicito, questi corpi così martiriati, che ad ora stanno lasciando una cosa ben chiara. E qual è la cosa ben chiara che si dice i ragazzi probabilmente tra di loro prima dei fini settimana? o non andiamo fuori, attenti ad andare in camparella. Da qui, dall'84, occhio ai ragazzi. Piazzale Michelangelo, i foli di giornale sui fini settimane, il diktat passato dalla polizia in solito, o la società durante il giorno è un reato. Attio c'è in luogo pubblico. Quindi lasciamo stare, aiutiamo questa cosa. Io credo che questa qui sia uno delle tante cose che muove il mostro. Perché se il mostro probabilmente fosse una persona, fosse un guardone che si bea dell'attività sessuale, non credo che farebbe poi più di tanto per questa sessualità. Cioè, se fosse veramente un soggetto da un'ipersessualità tale che brama dal desiderio di vedere la sessualità pubblica per cercare vittime, ecco, nella sua strategia di farlo, questa non mi fa una grandissima idea per far uscire i ragazzi di casa. Anzi, c'è un modo di punire questa pratica. Punire poi dipende che punizione. Io a tutti i grandi protagonisti di questa vicenda attenzionati dalle indagini vedo una sorta di punizione. Lo vedo nel sardo famigerato che può aver commesso i diritti. Una sorta di punizione perché probabilmente già qualche anno prima quando era nato il piccolo Carlo aveva già avuto un'esperienza di tradimento che non gli era andata tanto a genio. ora il contadino di Mercatale a cui aveva già vissuto e quindi probabilmente questa punizione è un'indole poi vediamo da che punto di vista si può vedere. Arriviamo alla fine. Metto venerdì o sabato 6-7 settembre 1985 così qua giù non mi si segnala né mi si ritica né mi si blocca né si va fuori da qualche gruppo Facebook. venerdì o sabato 6-7 settembre 1985 la scienza grazie al cielo è riportato all'interno diciamo di un alveo di giorni che non risponde a quello che il super testimone ha continuato a riferire in perterrito per i diritti e quello che diciamo vuole la data ufficiale della morte la domenica 8 ecco così abbiamo visto che non è sono stati fatti degli studi riportati anche su libri usciti di recente di quali Unatore è anche in Sardegna sono anche ben contento e quindi lo possiamo tranquillamente riportare tra il venerdì e sabato quando una coppia anche qui di turisti francesi ritorniamo a colpire allo stato estero dalla loro cittadina vengono a fare una ginnatina in Italia perché la ragazza ha un negozio di scarpe vuole andare a questa fiera a Bologna che si terrà appunto nel weekend e poi ritornare perché la bambina perché lei è una figlia ricomincia la scuola gli fa piacere che se lei è accompagnata quindi voleva essere a casa prima del tempo quindi il venerdì loro sono a Forte de Marmi se non sbaglio in piazzetta al forte arrivano nel territorio ferentino perché giustamente c'è Firenze passiamo a salutarla passiamo a vederla prima di andare a Bologna e vanno su una delle era difficile trovarla una delle piazzole più brutte che circoscrivano il nostro meraviglioso contorno che è quella di Scopeti che è una piazzola ottima perché è chi ha da fare quello che ha da fare ma non è per vedere dove almeno io pianterei una bella tenda per passare una bella due giorni a Firenze d'accordo? Comunque arrivano a Scopeti e come sappiamo qualcuno mentre sono entrambi totalmente nudi in macchina quindi si è abbastanza purato un atto sessuale vengono colpiti dal nostro soggetto ignoto che per la prima volta deve affrontare una situazione di disagio e forse questo è stato effettivamente un rischio da parte dell'omicida che colpisce quando i ragazzi sono in tenda è la prima volta che colpisce all'interno di un'autovettura e anche qui secondo me è da identificare i suoi problemi di contingenza temporale cioè che io devo uccidere probabilmente in quei giorni in quella tempista cosa mi capita fra le mani una coppia in macchina in coppia appartata è una coppia appartata sì corrisponde agli altri 7 duplici omicidi 7 barra 6 su duplici omicidi che ho commesso beh direi di sì cioè non sono in macchina però ricrea quella situazione che a me tanto a genio non va e quindi probabilmente arriviamo a questa data e si trova comunque una coppia che risponde benissimo a qual è la sua idea cioè quello che lo muove ovviamente stiamo assodando che è quella della coppia insieme appartata in atteggiamenti amorosi questa volta ha la reazione dell'uomo perché spara ed è bravissimo perché sparando comunque attraverso la tenda riesce a colpire la ragazza al volto e mi sono sempre chiesto come ha fatto a colpirla precisamente lì a me un'idea è venuta ma secondo me più vado avanti credo che sia un'idea molto sciocca questo perché purtroppo anni di scout li ho fatti mi hanno detto che comunque le tende si aprono in un punto e quindi ho pensato non è che l'assino magari proprio perché c'è chi pensa che attirasse invece l'attenzione delle vittime d'accordo o eventualmente per vedere chi c'era dentro la tenda o cosa stavano facendo li richiama in qualche modo e loro per aprirla lui spara in direzione della zip che si apre considerando che comunque c'è un braccio attaccato alla zip che prova a aprirla e spara verso lì poi effettivamente ha molta fortuna e becca lì però a meno che non si sia messo ma sai anche questa cosa a dettaglio considerando quello che hanno fatto a quella tenda è veramente assurdo perché anche quando hanno preso cioè chi dava le direttive lì si gira un attimo si rigira la tenda tutta per terra gli fanno la tenda doveva essere precisa doveva fare i rilievi smontano la tenda la pallottolano e pensate l'esame balistico su quella tenda allora se voi non avete mai visto il dipartimento di medicina legale di Reggio cioè entri in questo grande colonnato vi è medicina legale vi è anatomia patologica vi è anatomia umana d'accordo? voi andate a diritto al portone di medicina legale a sinistra c'è un giardinetto o un cortiletto d'accordo? loro ripiantarono la tenda lì la ripiantarono e fecero l'esame balistico mi racconta ora o meglio non posso dire posso dire i nomi che c'era tutti anche gli studenti lì le persone a guardare mentre loro con la polizia rifacevano tutte le misurazioni quindi io non abbiamo una foto prima di quel momento che magari si è strappata perché non era una gran tenda o in altro modo o l'hanno strappata allora magari uno è inciampato sopra a un picchietto considerando quello che hanno fatto a livello di indagini non mi stupirei assolutamente di niente ecco nel caso in cui lui abbia fatto lo straccio sulla tenda però lo fa nel catino esteriore c'è ancora il catino interno quindi deve inserire la mano quindi la trovo sinceramente difficile purtroppo non con un grado di certezza tale da poterlo dire però il ragazzo Jean-Michel non è morto è stato colpito in via superficiale sappiamo che gli va incontro lui gli spara dietro lo riesce a colpire un'altra volta lo raggiunge lo prende da dietro lo sbatte a terra e lì lo comincia a colpire con molta forza con l'arma bianca tant'è che lo ucciderà con questi colpi poi lo prende lo trascina nella boscaglia accanto e lo getta fra la boscaglia coprendolo con dei contenitori di vernice trovati in questa meravigliosa piazzola che era usata anche come minimo di scale quindi abbiamo detto che non era un posto molto carino torna all'interno della tenda cosa fa? probabilmente estrae alla donna e la porta più o meno a questa altezza qua pratica l'escessione del pube e del seno sinistro come aveva fatto l'anno prima poi richiedendolo a mod di libro ma credo che questo considerando che poi come vedete dalle foto il piumone che utilizzavano era tutto spostato in là semplicemente per comodità cioè per comodità lui abbia spinto il corpo che trovando poi l'ostruzione del piumino l'altro si sia rigirato su se stesso tant'è che viene ritrovata lei chiusa al libro chiude la tenda se ne va e da quel giorno il mostro di Firenze smetterà di sparare cosa c'è di importante in questo delitto? tante cose anche se credo che non sia proprio importante cosa ci dice questo delitto? ci dice che per la prima volta il mostro nasconde i corpi perché? aveva in mente questo? l'invio del lembo di seno alla dottoressa Silvia della Monica qualche giorno dopo? cioè voleva creare una pericolosa caccia ai corpi anche perché comunque aveva avuto la fortuna di beccare una corpi probabilmente nessuno avrebbe riclamato il giorno dopo se non le avessi viste a casa e quindi vi arriva questa e iniziate a cercarli secondo me no secondo me si può vedere dell'altro secondo me questo delitto questa chiusura la tenda la missiva è un saluto secondo me qui il mostro sa che è l'ultimo suo delitto secondo me il mostro qui non colpirà più perché sa che o perché come dicono alcuni è stato troppo attenzionato già dalle indagini o perché sa che non può spingersi oltre di smettere sappiamo bene che difficilmente i serial killer smettono di uccidere perché vogliono ma siamo grazie a quello perché sono stati ritrovati nel corso dell'anno scorso con delle tecniche nuove identiche del DNA altri omicida pluri omicida in territorio statunitense che non colpivano più da 25 anni 30 anni quindi è erroneo dire che il serial killer lo fermi perché lo prendi o perché l'ammazzi secondo me no anche perché è un soggetto che probabilmente come abbiamo detto vive del quotidiano parlare di lui si bea di questo momento e da qui contate tutti gli anni poi fino a ora nessuno smetterà di parlare di lui l'obiettivo di far passare un messaggio che probabilmente secondo me circoscrive nell'arco di questi 7-8 duplici omicidi viene pienamente realizzato e non ne ha più bisogno anche perché da lì iniziano poi delle indagini che ricordate in quel momento il focus è sui sardi e durerà fino all'89 anzi durerà poi qualche anno dopo e poi sappiamo che entra il grande protagonista della vicenda che è Pietro Pacciani compagni di merende mandanti Giampiero Vigilanti Zodiac Zodiac Killer la setta dei misteri la rosa rossa il medico perugino ne manca qualcuno c'è qualcun altro abbiamo qualcun altro attenzionato dalle indagini il farmacista i mandanti l'avevo legato ai mandanti insieme al il farmacista Natalino Mele Natalino Meno stesso Carlo Vigna poi il fratello il fratello il poliziotto da lì diciamo ecco tante persone ci sono state non e ricolperà più parliamo dei delitti dico una cosa per me importante che è alla base dell'uomo dietro il mostro d'accordo? che è un po' riprendo quella discussione che avevamo iniziato prima non posso purtroppo ringarmi oltre perché poi voglio lasciare lo spazio a voi i delitti io ve lo cercate di mettere ora tutti in serie d'accordo? guardateli vittime femminili vittime maschili c'è qualcosa che lega molto questi delitti ed era quello che vi dicevo prima come vengono ritrovati cosa realizza l'omicida realizza un assassino questo è poco ma sicuro ma realizza altro vuole fare qualcosa e qualcosa è offendere i corpi e in che modo li offende? in che modo dà quel qualcosa in più rispetto a un normale omicidio? 68 1982 74 1984 83 85 81 81 notate delle somiglianze tra i corpi guardate anche quelli degli uomini guardate la somiglianza incredibile da 74 e l'84 baldi foggi il baldi badate bene ha quel pantalone rivoltato non se l'è rivoltato da solo iniziamo subito a dire non se lo può essere rivoltato da solo qualcuno gliel'ha rivoltato è scomodissimo come mi hanno detto chi se li ha messi io non porto stivali ma quelli sono dei camperos quelli indossati dal ragazzo che so anche dove li ha comprati e quando mi hanno detto che togliersi camperos era una delle cose più difficili del mondo cioè se ti dovevi spogliare per fare c'era 10 minuti di camperos cioè dei criminali dovevano essere molto molto male perché e farli in macchina bloccato lì e anche devo dire mi toglierci in suatro era veramente complicato 81 e 81 guardate come sono simili 74 e 84 68 ora purtroppo non abbiamo immagini del mainardi all'interno della vettura ma credo che non fosse molto di simile da quello del 68 l'83 a 62 uomini 84 e l'85 che è nudo coperto di coltellate è comunque il ragazzo 74 e 84 81 e 81 82 e 68 giugno ottobre 81 settembre 84 settembre 74 ottobre è giugno luglio 84 cosa c'è il mostro com'è agisce per input agisce per raptus no agisce seguendo una logica un ordine cosa fa lui l'abbiamo detto prima uccide uccide nello stesso modo tutti si perché cosa stanno facendo tutti cos'è il minimo non ultimo tra questi delitti l'abbiamo detto prima la coppia appartata elimina la coppia appartata l'ammazza e basta no fa di più fa qualcosa sui corpi e impiega del tempo utile alla fuga per fermarsi i suoi corpi tenendosi lì qualche minuto perché? perché gli vuole dare qualcosa in più vuole che la gente parli di questo perché? perché io ti ammazzo ti faccio un'offesa ma se ti ammazzo e poi ti scendo pube e seno ti faccio un'offesa ancora più grande ma perché te pia meriti un'offesa molto più grande? perché eri nuda e se eri nuda probabilmente stavi facendo qualcosa di più grave rispetto a quello che stavano facendo le altre avevi portato la vostra azione ad un livello più alto di quello che probabilmente avevano fatto qua o qua o qua qua no questa è l'azione che porta ad una reazione uguale ovviamente migliorata nel corso del tempo perché posso non soltanto colpire ma ho visto magari perché per c***are c'è stato qualche film come pensano alcuni o qualche fumetto che mi ha invogliato che non solo posso colpire il modello vergine di Norimberg una ragazza ma posso anche tagliare direttamente che a quanto pare per 93 volte ho usato il coltello e un po' mi piace quindi credo che se ci sia una semplice che poi tanto semplice non è legge morale dell'assassino io ti offendo tanto quanto è la tua offesa quello che stai facendo tant'è che se vi state spogliando i primi toccamenti mi tocca io spogliarvi e vi parti che io riesco a vedere il pube la gonna slacciata il pantalone slacciato se invece siete così siete nudi meritate offesa maggiore perché 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 messi e nesta una voglia offensiva una voglia mortifera ben più grande rispetto a quella di chi vi veda in macchina da soli fermi perché siete appartati per questo secondo me l'82 sì magari poteva essere anche portato oltre ma comunque soddisfa l'idea originale dell'omicida per questo l'83 allo stesso modo la soddisfa perché perché ricomprende la colpa generale di essere appartati in macchina a in un luogo probabilmente in cui state facendo delle attività che per poi come vi ritrovo perché come per come vi uccido risultate in tal senso meritevoli di maggior punizione perché se siete meritevoli di maggior punizione quello che passa sui giornali è una coppia nuda in macchina gli è stato escisso il seno e la vagina alla ragazza il ragazzo è stato attinto da 10 coltellate non 2 non 2 come gli altri nell'81 e nell'81 10 11 come nell'84 e come nell'85 le 74 la ragazza le coltellate anni dopo pube e seno una logica un preciso principio di legalità chiamiamolo esatto ad ogni azione corrisponde un'azione e sempre non si è che è un principio di legalità situazioni uguali meritano trattamenti uguali situazioni diverse meritano trattamenti diversi si aprono due strade la prima il mostro aspetta che loro arrivino ad un punto tale di svestizione che per erigare la solita scena d'accordo primo e resta lì possibile secondo lui si avvicina alle macchina e dice no questo ancora no questo ancora no ma lo vedo difficile io credo che il soggetto come ho detto prima studi luoghi d'accordo studi luoghi studi la dinamica per arrivare per uscire come agire caso vuole probabilmente il 29 luglio del 1984 in quei luoghi e sappiamo che era già frequentata da altre coppiette capitano loro non escludo che magari nel corso di quell'estate visitando i luoghi abbia visto proprio loro perché infatti chi lo ritrova va lì perché sapeva che loro andavano lì e noi lo sappiamo a Camporella siamo stati tutti è facile che uno vada più o meno nei luoghi con usciuti non da dire chissà dove andiamo oggi in Camporella e va a cercare un'altra stada d'accordo quindi io credo questo senza pensare a evoluzioni c'è un'evoluzione certo ma non perché il disegno lo farò sempre di più perché tra l'84 e l'85 a livello di overkilling o omicidiaria non c'è differenza anzi atto una bella anzi approfitto di una bella stonatura non sono neanche in macchina sono in tenda quindi forse la macchina la il ricreare l'azione del 60 come pensano tanti non è così importante lo è invece uccidere la coppia ma la coppia non la donna e basta c'era già probabilmente un assassino di donne a Firenze in quell'epoca o magari era il solito che durante la settimana faceva le donne e poi uomini e donne il fine settimana ma perché la donna la ragione ci deve essere certo secondo me secondo me la ragione perché la donna è perché la donna è fra l'uomo e la donna il soggetto più puro la donna la ragazza è il soggetto meritevole di maggior tutela è il soggetto appunto meritevole di maggior punizione perché perché è quella che rende l'atto possibile è la madre è una futura madre è Maria la donna è il soggetto che accoglie l'uomo la donna per tutti è la madre la donna la donna è il soggetto più puro un uomo e l'assassino è sicuramente un uomo sa che il soggetto fra virgolette più puro dell'altro cioè che il maiale scusate il termine comunque il soggetto sessualmente più voglio fare quello nel senso è l'uomo ma quello che deve essere veramente punito è la donna perché sicuramente se fosse per un uomo era più facile come accade a Pasquale e Stefania lo facciamo lo facciamo no 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 ora magari si è visto tutti quando eravamo ragazzetti in età adolescenziale era la donna che dettava il tempo e soprattutto stiamo parlando di coppie di fidanzati che per alcuni di questi era stato il primo e unico amore se non qualche piccola scappatella adolescenziale non ha mai beccato fuori il 68 la coppia oh ci conosciamo da ora quelli che si conoscevano da meno tempo erano quelli dell'81 erano Foggi Denuccio che si conoscevano da meno tempo degli altri però in realtà era una bella coppia stabilita anzi lui era già andato in casa forse anche perché insomma la famiglia di origini del sud lei ha avuto una storia alle spalle si è lasciata si deve sposare o altro te chi sei e loro avevano già fatto aprire invece intenzioni di una solidità futura ecco quindi credo questo credo che ci sia effettivamente un'azione colposa da parte dell'assassino che vada a offendere una situazione che di volta in volta si modifica perché ovviamente sarebbe un assassino incredibile tutte le volte beccasse quella coppia si sta appena sbottando i pantaloni ovviamente l'azione che si trova di fronte è sempre diversa e a questa diversità corrisponde una reazione diversa che è appunto quella di infliggere maggior pena sui corpi nell'attività di overkilling allora perché il discorso del saluto nascondendo i corpi come diciamo perché secondo me sono utili i pazienti esatto cioè secondo me lui sono utili a guadagnare del tempo hanno una utilità li servono probabilmente sì invia anche la lettera ma credo che sia mi sa molto di lettera di saluto finisco non ho tempo di parlare del profilo geografico purtroppo in ogni caso vado contro Valerio che è qua ma di secondo me la postrada non la prendeva ecco l'unica cosa che è qua perché questo lo dico perché si è ipotizzato che il mostro effettivamente approfittasse della nostra linea a 1 per arrivare nei luoghi del delitto d'accordo io lo vedo da persone che comunque ci si pensavo oggi perché sono andato a Borgo a fare lezione e ho detto ma se io veramente stessi ad esempio abitassi in centro a Firenze io a quell'epoca la postrada per andare in questi luoghi non la prenderei mai per andare in questi luoghi dei diritti non la prenderei mai perché è vero che cioè io parlo da persona che sta qui nel senso che la vede perché è vero che da qua a là c'è circa se non di più però se parto dal centro di Firenze se sono in mostro di Firenze arrivo passo Fiesolana arrivo Perfetti Bolognese e arrivo di là qua giù Firenze il più lontano di tutti è là e ha comunque 35 minuti non credo che il traffico nell'80 nel 74 fosse stato così spasmodi all'interno di quelle curve e poi ancora la possibilità comunque di essere all'interno di un'autostrada dove un'unica selezione comunque non lo vedo più utile rispetto a e questo parlo da persone che comunque tante volte ha bevuto in stato di leggera ebrizza del nostro territorio io per torno a casa non puoi prendere una pattuglia considerando che il nostro territorio ci regala delle magnifiche colline delle stratine buie io passo di molto di lì perché se vedo del blu in lontananza spengo i fari chiudo la macchina e mi fermo lì o giro in un'altra strada e non c'è che beccarmi proprio lucidente al senso parlo però ci sta benissimo poi abbia utilizzato il raccordo autostradale che è molto comodo anche se devo dire che essendoci statoci proprio oggi arrivare a Bolgo San Lorenzo da Barberino è veramente una rottura di balle perché tra Barberino e Borgo San Lorenzo c'è ancora una venticinquina di minuti buoni d'accordo e se sto a Firenze sicuramente faccio prima passare di là nel senso tornando quando devo prendo la bolognese senza problemi detto questo vi saluto con una cosa come finisco sempre prima di dare via al dibattito ed è ovviamente un ricordo perché anche qui sono a parlare come tanti di voi e come lo spettacolo sulla pelle di altre persone persone giovani che sono sono uscite una sera con la volontà di stare un po' insieme e non sono più tornati quindi spero davvero che il pensiero ogni volta che si parli di questa storia vada a chi ci ha reso purtroppo la possibilità di parlarne a quelle vittime che sono morti ormai stanno anche morendo i parenti nel senso si stanno anche esaurendo anche le persone storiche che a 50 anni ancora dal 51 quasi dal primo diritto ancora non hanno una verità completa storica ma neanche giudiziare perché sappiamo che è un po' monca per tutti i diritti attivi al maniaco delle coppiette io vi ringrazio per l'attenzione e possiamo aprire un applausi